L'accordo per applicare la nuova legge elettorale soltanto alla Camera è una presa in giro, secondo i 5 Stelle, una scelta assurda che avrà conseguenze nefaste. È un vero disastro, ci saranno due maggioranze differenti, una alla Camera e una al Senato. L'esatto opposto di quello che ha sempre detto Renzi, cioè di volere una legge elettorale che dia un vincitore la sera stessa delle elezioni. Sul blog una nota firmata dal gruppo alla Camera spiega come l'Italicum, ribattezzato Pregiudicatellum, penalizzerà il movimento. L'ennesima prova per i 5 Stelle è che l'unica razza della nuova legge elettorale è quella di salvaguardare un bipolarismo che non c'è più. E dopo le dimissioni di Gentile, Grillo sul blog attacca, anche i quattro sottosegretari PD indagati devono lasciare, scrive, mentre il capogruppo al Senato, Sant'Angelo, promette che il movimento presenterà contro i quattro mozioni di sfiducia individuali.